Carezzare i tuoi capelli e spostare le montagne, salire in alto fino alla luna è solo ciò che potrò fare se chi mi ha amato era speciale. Puoi pensare di spiorarti fra un milione di persone per spezzare il tuo silenzio con le parole di una canzone. E scoprirti invece un giorno lontana. Alessandra lo sai, non dovevi lasciarmi solo perché sono stati guai ed ore tardi ormai, ore tardi ormai. Evocare il paradiso in una lucida coscienza per convincere i tuoi demoni a lasciare la tua stanza. E poi dar appuntamento come un pazzo al tuo pensiero a una festa per il mondo per lasciarlo più sereno. Così forse letteralmente come soffre all'elenzuola sarà libera la mente ed io una persona nuova. e scoprirti invece un giorno lontana. Ossandra lo sai, non dovrei lasciarmi solo perché sono stati guai ed ore tardi ormai, ore tardi ormai. E dare forte ai tuoi pensieri Che non ti lasciano altra scelta Perché indietro non si torna E poi un sogno Non si ferma 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 E' un po' di più Grazie a tutti.